Buonasera, allora se siete pronti Diamo lettura del bollettino di oggi, intanto ringrazio il professore Silvio Brusaferro che mi accompagna pure oggi nel corso di questa comunicazione e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Il dato di oggi è guariti 109, quindi i guariti passano a 523 rispetto al dato di ieri. Il numero dei deceduti oggi è 49, microfono lo abbassiamo. In totale 37 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, 2 in Piemonte, 1 in Lazio. L'età dei deceduti vanno da 62 anni a 95 anni e poi le persone decedute sono anche persone che hanno una fragilità e diverse patologie. Il dato complessivo delle persone che sono attualmente positivi sono 3.916, di questi 1.060 sono in isolamento domiciliare, 2.394 sono ricoverati con sintomi e 462 sono in terapia intensiva. Complessivamente il totale dei guariti è l'11,28% del totale e i deceduti sono il 4,25% del totale che noi abbiamo. voglio anche dire che tra le cose che ci sono state oggi voglio ricordare questa valutazione da parte dell'OMS che ha ricordato come il nostro Paese stia reagendo energicamente all'epidemia e che ha messo in campo misure di contenimento adeguate. Questo si tratta di una constatazione che ci conforta anche rispetto all'attività che stiamo facendo di contenimento su tutto il territorio. Io vorrei lasciare la parola al Professore Brusaferro se vuole aggiungere qualche cosa e poi apriamo alle vostre domande. Prego Professore. Grazie e buona serata a tutti. Io vorrei solo aggiungere, prima di lasciare spazio alle domande, qualche considerazione circa le caratteristiche delle persone che sono decedute. dai nostri dati questo emerge chiaramente che sono persone che nell'80, più dell'80% ah, no, no, ok. Perfetto. Sono persone che sostanzialmente in quasi il 90% dei casi raggiungono l'80, 85% dei casi raggiungono due o più patologie. Sappiamo che l'età media delle persone decedute è 81 anni e sappiamo anche che il 28% sono donne. Le patologie, le comorbidità come noi le definiamo, sono le classiche patologie cronico-degenerative che vanno da aspetti da patologie cardiache, al diabete, alle malattie epatiche o persone portatrici di patologie neoplastiche. Questo è un dato che caratterizza anche l'età media, anche i deceduti di oggi si caratterizzano per questa caratteristica. C'è un elemento, credo, importante da sottolineare rispetto al dato di mortalità che viene riportato e che ci vede in questo momento abbastanza con un valore superiore al 3%, quando poi andiamo a scorporarlo per fasce di età emerge un elemento molto importante che credo vada a tutto merito del nostro servizio sanitario nazionale e a tutto merito dei nostri operatori, dei nostri professionisti che voglio ancora una volta ringraziare per il lavoro preziosissimo, infaticabile che giorno dopo giorno, ora dopo ora stanno garantendo. In tutte queste, nelle varie fasce di età, la mortalità una volta stratificata è più bassa rispetto ad altri contesti con dati paragonabili. Questo è un elemento molto importante perché ci dà una misura anche di quanto sia prezioso il nostro servizio sanitario nazionale. Mi fermo. Buonasera, Matteo Guidelli dell'ANSA. Volevo chiedere due cose. La prima è domani scade il DPCM con l'indicazione delle zone rosse del basso Lodigiano e di voi Uganeo. Volevo capire se sarà prorogata la misura. L'altra domanda che volevo fare è se abbiamo dei dati sui medici in quarantena perché pare ce ne siano diversi e quindi volevo capire se avevamo un dato su questo. Grazie. Allora, il Comitato Tecnico Scientifico sta analizzando le informazioni, i dati e per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Per quanto riguarda i medici io darei la parola al Presidente Brusaferro. Sappiamo che ci sono a parte medici del personale sanitario che è stato esposto come contatto stretto. è una quota sopra i 200-250 persone attualmente vengono stimate e sono persone che in questo momento vengono valutate. sono sia positivi sia contatti stretti e quindi in realtà nei prossimi giorni riusciremo a dare un quadro più precisa di questo tipo di situazione. Certamente è molto importante che il personale sanitario, avere un personale sanitario in linea perché questo è un elemento decisivo per garantire la qualità dell'assistenza e la continuità dell'assistenza. Buonasera, Giordan Foresi, SkyDG24. Oggi si è parlato di rafforzamento del sistema sanitario con la possibilità di acquisire nuovi strumenti anche per quanto riguarda la respirazione e la terapia intensiva. Ecco, se ci potrà dare dettagli su questo punto. Grazie. Consip ha già fatto partire la richiesta di offerta che scadrà domani per potenziare con 5.000 impianti di respirazione aggiuntivi il sistema che noi oggi abbiamo nelle nostre terapie intensive e subintensive. noi stiamo lavorando anche noi del Dipartimento. Io credo che domani vi potremo anche dare delle comunicazioni più precise su questo. Managò, Agenzia Agi. Poco fa, parlando, l'assessore Gallera in Lombardia ha in qualche modo un po' polemizzato dicendo sulla necessità di mascherine, sulla difficoltà di reperire. Voi come rispondete su questa questione? Il tema delle mascherine è stato un tema che ci ha impegnato, ci ha visto lavorare insieme con la Regione Lombardia e quelle che noi abbiamo già acquisito sul mercato perché questa settimana è stata una settimana di intenso lavoro sono oltre 970.000 mascherine di queste abbiamo già consegnato 220.000 mascherine FFP2 quelle per i medici alla Regione Lombardia. Nei prossimi giorni domani dovrebbe arrivare un carico di ulteriori mascherine consegneremo altre 71.000 mascherine alla Regione Lombardia insieme a 10.000 mascherine chirurgiche. Dalla settimana prossima abbiamo contrattualizzato e dovremmo avere la fornitura così come previsto nei termini che sono stati contrattualizzati di almeno 2 milioni di mascherine chirurgiche che dovrebbero arrivare durante la settimana prossima quindi riusciremo a dare il supporto a tutte quante le Regioni. Il tema del mascherine è un tema che riguarda tutte le Regioni e noi proprio in relazione alla entità delle esigenze e dei contagi abbiamo privilegiato la Regione Lombardia. Quante poi la Regione Lombardia è riuscita a trovare autonomamente sul mercato questi sono dati di cui io non dispongo quindi su questo non vi posso dire. Abbiamo visto sia a Termoli sia a Torino sia anche in altre parti d'Italia persone andare al pronto soccorso e contagiare di fatto il pronto soccorso. Al di là dell'appello al civismo di ciascuno c'è qualche contromisura che state studiando e potete prendere per evitare questo tipo di fenomeno? Questo è in fase di studio. Io credo, anzi ringrazio per questa domanda e colgo l'occasione per ricordare che la raccomandazione di non andare al pronto soccorso in caso di sintomatologia positiva è fondamentale. È fondamentale per la sicurezza di tutti coloro che vanno al pronto soccorso. Colgo l'occasione anche per ricordare, per raccomandare come appello ma anche come dovere civico che persone positive, asintomatiche ma positive, che sono quarantenate nel loro abitazione, nel loro appartamento non devono recarsi in luoghi pubblici, con amici. Non è una bravata, non è una ragazzata, è una precisa responsabilità non farlo e stiamo studiando anche eventuali conseguenze per un atto di questo tipo. Posso aggiungere una cosa sulle attività che si sono organizzate, oggi registriamo 395 quindi siamo cresciuti con le tende per il pre-triage, quindi all'esterno degli ospedali abbiamo installato delle tende proprio per riuscire a trattare preventivamente anche eventuali persone positive e non infettare i pronti soccorso che sono fondamentali per tutto il resto dell'assistenza sanitaria. Stefano Corradino, Rainews24, ci sono nei numeri 100 in più di terapie intensive rispetto alla giornata di ieri. Ci sono dei livelli di saturazione che alcune regioni stanno raggiungendo in questo momento? Non so se tu hai dei dati, da quello che posso dire io non ci sono arrivate segnalazioni particolari di esigenze. Lo avevamo già detto ieri sicuramente ci sono situazioni di forte impegno delle strutture ma richieste per assistenze fuori regioni a noi come Comitato Operativo non sono arrivato quindi è tutto rimasto gestito a livello delle singole regioni. Posso integrare o aggiungere un'informazione nelle regioni dove la pressione è più alta c'è in corso una ridistribuzione sostanzialmente delle casistiche in modo a poter garantire la migliore assistenza e quindi dobbiamo dare atto e riconoscere lo sforzo ancora una volta importante che si sta facendo a livello delle regioni più coinvolte in questa emergenza nel riorganizzarsi a tempi record per poter distribuire e per poter garantire a tutti i cittadini che ne hanno bisogno standard di assistenza. Questo è in corso e quanto diceva il Dottor Borrelli poi si traduce nel fatto che ancora le regioni riescono al loro interno a gestire il fabbisogno. Ultima domanda. Petraroli di G2. Volevo capire se state pensando a nuove misure di sicurezza sanitaria in particolare a una nuova zona rossa nel Bergamasco o addirittura in tutta la Lombardia. La realtà della regione Lombardia è una realtà particolare. In questo momento i dati mostrano come c'è un incremento in alcune aree più che in altre ma comunque nella regione Lombardia di positivi o di casi. La regione Lombardia ha sottoposto questo tipo di problematica e anche i dati confermano questo tipo di crescita. il Comitato Tecnico Scientifico sta lavorando attentamente per capire e per eventualmente suggerire dei comportamenti o delle misure da adottare. È in fase di discussione e di analisi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.